Domenico Ferraro, Gazzettino Vesuviano, varie partenze, qualche new entry alla vigilia di un match chiave contro la Vibonese. Ci fa il punto della situazione sul piano tecnico e come lo spogliatoio sta affrontando questo momento o no sul piano dei risultati? Innanzitutto buongiorno. Per quanto riguarda quella che è la finestra di mercato, ovviamente è un periodo che crea dello scombiglio, del quale anche noi siamo stati particolarmente sorpresi e colpiti perché ovviamente c'è distrazione di voci, come anche altre volte ho tenuto a precisare, vere o presunte, di addetti ai lavori, colleghi anche in un certo senso scorretti che anziché pensare a fare il proprio lavoro, addirittura si vestono di cariche provando a disturbare i giocatori impegnati con le nostre squadre senza fare i passaggi, senza rispettando quelle che sono i tempi, i modi e anche le gerarchie e quindi anche questo abbiamo dovuto sopportare ma ovviamente stiamo parlando di un qualcosa che dovrebbe vederci in qualche maniera abituati, soprattutto conoscendo alcuni soggetti, ma purtroppo continuano a distogliere e a creare quelle interferenze anche in un'armonia come avevamo noi in qualche maniera costruito, al di là dei risultati sportivi che poi alla fine sono il succo di tutto ciò che facciamo, nonostante le prestazioni siano state ottimali, tranne quella di Monopoli, ma mi riferisco esclusivamente ai 45 minuti finali, cioè quelli del secondo tempo dove la squadra ha sicuramente dato un segnale negativo e di questo avrei voluto sicuramente chiedere scusa perché è stato un atteggiamento che non ci appartiene, che non ci è mai appartenuto, al di là delle prestazioni e al di là dei risultati che però purtroppo è successo, non sarà il primo caso, per noi spero che sia l'ultimo, però succede anche come è successo a noi a Monopoli di essere in vantaggio di 2 a 0, poi essere raggiunti prima della fine del primo tempo e poi addirittura nel secondo tempo è sembrata una resa, in realtà non è stato così, è stato un qualcosa di imprevedibile che ci ha anche un po' umiliati, ci siamo auto umiliati, sono lezioni che sicuramente ci fanno bene se non le ripetiamo più, nonostante i ragazzi abbiano sempre fatto il massimo, poi una partita la puoi sbagliare, ma è ancora fatti specie, eravamo particolarmente arrabbiati e risentiti perché siamo stati colpiti da un atteggiamento che non ci appartiene. Per quanto riguarda, ritorno all'inizio alla domanda, le uscite sono ben 5, le sapete, Romero, Bentivegna, Bubas, Golfo e Volpicelli, sono entrati Annoni, Esposito e Rizzardi, ovviamente da un punto di vista numerico siamo ancora un po' indietro in questo senso, arriverà sicuramente qualcun altro che abbia un entusiasmo nuovo, che ci porti magari anche una dose di personalità e di spessore all'interno dello spogliatoio, perché credo che in questo periodo sia stata la caratteristica che più ci è mancata, bisogna essere anche obiettivi e oggettivi, non andare sempre alla ricerca di un qualcosa che un calciatore non ci può dare e quindi dobbiamo trovare quelle problematiche che noi abbiamo pensato di risolvere con l'innesto di qualche giocatore che fosse un po' diverso da quelli che sono usciti e che potessero completarsi con quelli che sono rimasti. Roberto Giacchino di Maio, Stabia Channel, pur volendo sfiorare soltanto il tema del mercato per non distogliere l'attenzione dal campo, con quale spirito arriva la squadra alla partita con la Vibonese dopo le recenti partenze e le tante voci che tuttora toccano elementi si qui cardine del progetto tecnico? La società da qui in avanti ha intenzione di puntare sul minutaggio? In questo senso credo che è una domanda da porre alla società per quanto riguarda il mercato. Noi ci arriviamo con la testa, ovviamente come ho sottolineato prima, di chi è stato disturbato come tutti gli altri da questa finestra, forse l'abbiamo gestita non benissimo, una situazione che ci ha visti un po' perdere qualche riferimento, ma credo che già la prestazione della Casertana abbia ridato fiducia e morale a tutta la squadra, a noi dello staff perché non potevamo essere quelli di Monopoli, ma anche alla stessa piazza perché i ragazzi ci hanno messo in massimo impegno a di là di errori tecnici o tattici che ovviamente rientrano in un periodo che è difficile, negativo e quindi tante cose che prima riuscivamo a colmare o a sopportare o a nascondere adesso ci penalizzano più del dovuto. Rimane il fatto che il nostro obiettivo rimane quello di essere sempre al passo con le squadre che hanno delle ambizioni, bisogna avere una mentalità visto il periodo anche più addentrata alla Serie C perché dobbiamo trovare delle soluzioni, è inutile piangerci addosso e andare alla ricerca del capo espiatorio che volendo è anche facile da individuare, ma il problema è cosa fare per risolvere un piccolo periodo di crisi perché se analizziamo le partite stiamo parlando di una partita persa con la Ternana dove c'è stata una manifesto superiorità e sembra che io sia stato il primo a riconoscerla, poi un passaggio a vuoto a Monopoli dopo aver fatto i primi 45 minuti all'altezza e non c'erano segnali che si potesse vedere un secondo tempo di quel tipo, è una partita persa contro la Casertana che è una delle squadre più in forma del momento, con delle azioni gol non finalizzate, azioni da gol a ripetizioni, hanno visto una squadra da un punto di vista fisico all'altezza, siamo arrivati in fondo creando sempre situazioni da gol, poi ovviamente manca sempre la parte realizzativa, ma è un problema che ci portiamo dall'inizio del campionato, siamo passati da una situazione di foggia dove c'era l'entusiasmo alle stelle, riconoscimenti da tutta l'Italia a una depressione seppur condivisibili per certi aspetti, ma che non fa bene a un equilibrio che dovrebbe regnare perché è solo l'equilibrio che alla fine ti fa arrivare in fondo all'obiettivo, bisogna mettere in preventivo dei periodi come questi, solo chi nella sua presunzione e se vogliamo anche nella sua mediocrità, al di là del lavoro che faccia, può pensare che un campionato duro come quello della Serie C, soprattutto nel girone C, possa andare tutto liscio, togliamo la prima, la capolista che ancora risulta imbattuta, ma sono eventi straordinari, anche le altre hanno avuto dei periodi difficili, noi lo stiamo vivendo in questo momento, dobbiamo avere la bravura di saperlo gestire, di sopportare, magari di lasciare tranquilli anche i calciatori che sono i protagonisti nel bene e nel male e convogliare come spesso è successo sul riferimento tecnico e cioè il sottoscritto. E quindi da questo punto di vista è una richiesta che faccio espressamente per cercare di esulare quelli che sono in fondo fino a un certo punto i protagonisti, perché i calciatori sono loro nel bene e nel male, come dicevo prima, a creare le condizioni per una classifica migliore o per una classifica peggiore, all'interno di un contorno e di un contesto che deve essere ben gestito, da me primo, ma anche da chi collabora con me, sia in società e sia fuori. Natale Giussi, Vivi Centro, quanto sente sua la responsabilità di questo periodo negativo della squadra e cosa deve scattare nella testa dei giocatori per uscire dal tunnel della crisi già dalla prossima gara? Un tecnico che non sente la responsabilità del periodo, sia nel bene che nel male, credo che è un tecnico finto. Ovviamente quando sentiamo dire non si dorme la notte è proprio perché siamo talmente legati e talmente ci sentiamo responsabili, anche se a volte anche eccessivamente, perché sono sempre i calciatori che vanno in campo. le nostre indicazioni per quanto possono essere ovviamente sempre a fin di bene per il meglio della squadra, c'è sempre l'imponderabile nel calcio. Non esiste una scienza, un modulo, un sistema, un allenatore vincente a 360 gradi e per noi ci sono le stesse problematiche. Quindi la responsabilità ovviamente me la sento mia, ma che mi sento di condividere perché non è una sola persona che fa la differenza, almeno che non abbia, o che non si chiami Messi o Maradona. Allo stato attuale in questa piazza, ma anche in altre piazze non ci sono, quindi come responsabile dell'area tecnica assolutamente mi sento responsabile nella percentuale che mi compete. E quindi dobbiamo farci tutti un esame di coscienza perché è così che se ne viene fuori. Mister, unisco la stessa domanda di Gaetano Donofrio, Mario Di Capua e Gianluca Picella. Cosa è successo alla squadra in questo periodo difficile? Le chiedo se vedendo l'involuzione avuta in questo periodo, soprattutto in fase difensiva, ha pensato anche alle dimissioni. Ha mai pensato che la sua esperienza stabiese potesse essere finita e se si sente sulla graticola per le prossime due gare. Una cosa per volta. Un periodo negativo che è di tre partite, che ci vede oggi fuori dai play-off, all'interno di 36 gare, secondo me è ingeneroso, ingiusto o addirittura troppo esigente, anche io verso me stesso che già lo sono di natura, per pensare di poter dare le dimissioni. Sarebbe di fronte a una difficoltà, per quanto mi riguarda, anche prevedibile, perché l'ho spiegato prima, capita all'interno di un campionato, pensare di andare via significherebbe mollare alla prima difficoltà. Non sono l'individuo adatto, anzi preferisco stare e preferisco andare in soccorso di chi in questi momenti ha questa necessità di aiuto e io in qualche maniera l'ho ricevuto da persone interne alla società, ma anche da persone esterne, tifosi compresi. E questo credo che sia il contributo più bello per chi come me lo vive come un lavoro. È vero che è un gioco, ma è un gioco per i calciatori, anche se noi dobbiamo ormai ragionarlo come un vero e proprio lavoro. È un gioco sì, ma per noi non è un gioco. Ci sentiamo la responsabilità della squadra, del nostro lavoro, dei nostri collaboratori, verso la città, verso i tifosi e quindi da questo punto di vista ovviamente sì. Sulla graticola, un tecnico come può in un periodo difficile non pensare che ci possa essere anche la possibilità che dimandano a casa, non sarei nel primo e nell'ultimo, tra l'altro sono stati esonerati allenatori, compreso il sottoscritto dopo aver raggiunto degli obiettivi con netto anticipo rispetto a Rolino di Marcia al campionato stesso, quindi non mi meraviglierei, ma nella fattispecie non ho avuto nessun segnale dalla società, anzi c'è stato un comunicato che mi ha reso particolarmente soddisfatto del comportamento della stessa società e che ha rafforzato ancora di più le mie e le nostre convinzioni. Poi il futuro non lo possiamo prevedere, siamo sempre sotto il cielo, quindi sono sempre convinto che vengo allo stadio, la mattina mi sveglio per fare il mio, forse anche qualcosa in più, sempre per il bene della squadra e sono soddisfatto. Non ho nulla di cui rammaricarmi e di cui avere rimpianto, sarebbe una cosa gravosa e allo stato attuale e non sto vivendo questo sentimento, quindi vado avanti per la mia strada. Giuseppe Amato e il resto del calcio, considerando gli ultimi movimenti in entrata e i numerosi in uscita, ritiene ancora la USA almeno da decimo posto per valori o nel caso di quali profili avrebbe bisogno per tornare ad una prospettiva di medio-alta classifica? Allora, noi siamo fuori dai play-off in questo momento, però credo che con tutte le partite restanti che mancano, dobbiamo avere sempre l'ambizione di tirare il meglio e soprattutto dare delle risposte ad un periodo, seppur breve, negativo. Non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo avere la forza di superare le problematiche, andare oltre, vedere la positività in quello che stiamo facendo, perché non possiamo passare, come ho detto prima, da una squadra apprezzata da tutta Italia nella partita contro il Foggia ed essere oggi addirittura sembra l'ultima del girone. Non è così, occorre l'equilibrio, occorre mantenere quel particolare equilibrio all'interno di queste situazioni che ci deve vedere proiettate all'interno di un problema che va risolto. Ovviamente se gli ingressi che mancano, sui profili che stiamo lavorando ci daranno quel contributo che cerchiamo avremmo azzeccato gli acquisti, è proprio in quella direzione che stiamo lavorando, dovremmo avere una mentalità, se oggi forse abbiamo dato l'impressione di essere una squadra che forse appartiene ad altre categorie per quello che è il gioco, ma meno addentrata all'interno di una richiesta della stessa e quindi essere meno, più pratici, magari lasciare un po' da parte quello che può essere il preziosismo e mettere dinanzi a tutto la praticità, l'essenziale. Questo credo che ci possa far ritrovare quel giusto entusiasmo e poi quella dose di fortuna che obiettivamente bisogna riconoscere che non ci ha accompagnato. Raffaele Izzo, Corriere dello Sport, le operazioni di mercato dei giorni scorsi sono state focalizzate su elementi molto giovani. Per quelle delle ultime ore di mercato spera che arrivino calciatori esperti pronti ad affrontare la fase cruciale della stagione in una piazza esigente come Castellammare. Ho l'idea di puntare sui giovani e condivisa. Sui giovani mi sono già espresso, ho detto che è condivisa a patto che ci siano quelle caratteristiche che possono essere utilizzate in questo momento e che possono portare dei valori aggiunti. Ovviamente non tratteniamo nessuno, ma giocatori che non hanno la giusta testa per continuare il percorso con noi, in qualche maniera forse l'hanno anche paventata e l'hanno anche dichiaratamente espressa di non voler restare o di cercare quelle soluzioni che meglio in questo momento esalta le proprie esigenze e quindi noi dobbiamo guardare in casa nostra. Sta di fatto che la società se non c'è un ritorno che possa essere sia economico, ma in termini anche di soluzioni umane e professionali non manda via nessuno. Quindi dal momento in cui la finestra di mercato poi è chiusa tutti quanti dovranno essere all'interno di questo progetto che va terminato nella piena consapevolezza e responsabilità di tutti. Ovviamente ci aspettiamo quegli innesti che possano, come dicevo prima, alzare il valore non solo tecnico, ma soprattutto umano e caratteriale e quindi anche in questo stiamo scegliendo il profilo più adatto proprio per essere in grado di mantenere una prospettiva verso una piazza esigente, giustamente direi, e verso dei tifosi che fino ad oggi anche a distanza e fuori dal campo ci hanno dato il giusto contributo. Claudio De Vito, Radio Punto Nuovo, ti chiede se Mastalli sarà a disposizione? Mastalli rientra in quei calciatori che fino alla settimana scorsa non erano tra i disponibili e quindi si aggiunge il suo rientro anche se non è a pieno servizio come non lo è Rizzo che è stato nella partita di Monopoli, ha preso un pestone che poi l'ha visto non giocare contro la Casertana e si aggiunge alla lista di Lia e Cernigoi che staranno fuori per un po' con Orlando che ovviamente continuerà a restare fuori seppur si è allenato in maniera diciamo così individuale ma oggi non è nella condizione di potersi esprimere al meglio. Quindi la condizione generale della squadra non è ottimale sia da un punto di vista fisico sia mentale ma in questi casi dobbiamo andare anche oltre queste difficoltà e concentrarci su un aspetto, il risultato. Gaetano Donofrio il mattino le stanno letteralmente rompendo il giocattolo in mano tutte queste cessioni sono condivise frutto di un progetto tecnico e societario non teme di rischiare di chiudere il campionato con un flop o le sono state fatte promesse per la chiusura del mercato? Pensare che io possa finire con un flop non sarebbe l'idea che ho all'inizio conferenza provato a spiegare il mio obiettivo e la mia positività deve andare oltre condivisa con la società ci sono degli acquisti e magari ci sono stati anche delle piccole modifiche di strategia rispetto a quelle iniziali perché probabilmente rispetto anche alle ambizioni personali e di società siamo un po' distanti dalle prime posizioni quindi si può essere anche in qualche maniera provati a correggere il tiro visto anche il periodo di Covid che stiamo attraversando e le esigenze familiari e di persone che fanno fatica veramente a mettere il piatto a tavola di ridimensionare un attimino quello che poteva essere magari in una posizione di classifica diversa un investimento però il mercato ancora non chiude secondo me non dobbiamo pensare negativo perché non ci sono oggi i numeri per farlo perché questi periodi di difficoltà ci possono essere ovviamente qualcosa è cambiato aspettiamo però la fine del mercato perché magari siamo più soddisfatti quando sarà chiuso e terminato e poi rimane un fatto che chi resta abbia la voglia di restare e di remare in una sola direzione non sono certo i due o tre giocatori che tra l'altro fino a questo momento hanno contribuito in minima percentuale con il loro contributo quindi stiamo parlando di presunte comportamenti carcistici detto ciò penso che questa squadra possa ancora continuare a dare delle soddisfazioni possa prendersi qualche risultato a patto che siano tutti quanti convogliati nella stessa direzione e soprattutto che ci sia anche una condizione fisica nel vedere tutti i protagonisti all'interno del campo per dare il loro contributo Ultime due, Francesco Maresca Sport Report Magazine considerata la rivoluzione di mercato attuata soprattutto nel reparto avanzato, cosa dobbiamo aspettarci dal giro di ritorno in termini di realizzazioni? I numeri sono sotto gli occhi di tutti, poi c'è tanta gente che sta intorno, vede le partite la situazione è abbastanza chiara, ne sono usciti 5 come abbiamo detto, me li sono anche segnati è uscito Romero che ormai ha avuto altre richieste, che ha sbloccato altri movimenti che ormai qui sembrava non avere più un futuro utile alla Juve Stabia quindi per il bene di tutti abbiamo cercato di accontentare e di soddisfare i desideri di tutti nella ricerca di qualche giovane anche con l'arrivo di Annone sicuramente di prospettiva Esposito e lo stesso Elizarde che hanno forse fatto pendere la bilancia più per trovare una soluzione vista la posizione di classifica alla quale mi riferivo prima e poi aspettiamo la chiusura di mercato perché secondo me ancora qualcosa dobbiamo fare e possiamo fare quindi concentriamoci adesso sulla partita, capisco che il mercato in questo momento credo che non ci abbia soddisfatto completamente come avremmo desiderato visto anche il periodo che stiamo attraversando però abbiamo sempre fiducia nei giocatori che resteranno perché la loro fiducia non è assolutamente stata tradita ma bisogna sicuramente riconoscere che dobbiamo fare tutti qualcosa in più che serve per cambiare un andazzo che non ci piace Mario Miccio, Sport Report Magazine, ieri c'è stato un briefing tra esponenti della società e lei al menti può dirci cosa gli ha detto la società? Io sicuro ero al menti, se la società ha fatto un briefing questo non lo so se invece si parla di incontri che giornalmente io faccio con il presidente Lancella con l'avvocato Todaro, con il direttore sportivo Pavone, con il consulente club manager Fabiani allora faccio briefing tutti i giorni Grazie mister Grazie a tutti